Buongiorno a te, tutto bene? Come stai? Tutto benissimo, a te? Non c'è male, grazie. Senti, ti chiedo subito una panoramica di giornata e della settimana. Cosa sta succedendo sui mercati? Guarda Giulio, stamane la partenza è stata non brillantissima. A differenza del Dax Future, che ha un andamento assolutamente distonico, forma minimi e massimi crescenti, facciamo un po' fatica. Perché? Perché, come dicevi tu correttamente, le banche stanno arrancando. Come sai, Piazza Affari è un indice il cui andamento dipende a doppio filo dall'andamento dei titoli finanziari, proprio in virtù dell'altissima capitalizzazione. Quindi una mattinata non brillantissima, anche se si considera il fatto che il Dax invece è abbastanza più dinamico e più tonico, ma in ogni caso delle opportunità ci sono e ricordo che comunque siamo in un mercato estivo dove i volumi e la volatilità scarseggiano e i temi operativi anche qui non sono così vivaci e quindi in queste condizioni probabilmente è opportuno quantomeno limitare le size standard proprio in virtù del fatto che la minore liquidità può rendere più frequenti falsi segnali perché, come sai, un mercato illiquido è più facile da manipolare e quindi sono più frequenti falsi segnali. Quindi una mattinata in cui non c'è tantissimo trading da fare, se non su alcuni temi, ad esempio Leonardo che è molto viva, ma che in ogni caso può stimolare alcune riflessioni su alcuni titoli che effettivamente sono arrivati su prezzi interessanti e quindi potrebbero essere delle interessanti opportunità. Benissimo, senti, partiamo subito con gli sms perché come sempre sono tantissimi. Ciao Giulio, un grosso complimento a te e alla trasmissione, grazie molto Alessandro Dallavalle. Vorrei chiedere all'esperto un'analisi di breve su Enel, lo ha in carico a 5 e 07 e vorrei capire se ci arriveranno. Sì, Giulio, Enel è un titolo più propriamente adatto a chi ha una logica probabilmente di medio termine che di breve termine perché è un titolo che propriamente non ha delle caratteristiche di volatilità estremamente elevate in virtù della grande capitalizzazione che rende piuttosto difficili i movimenti repentini. Immagine come un grande camion si muove con maggior lentezza rispetto a magari un mezzo più leggero. Qui i prezzi sono su un livello importante che è 4,90 euro. Guardando un grafico giornaliero è molto evidente il fatto che nelle ultime settimane proprio questo 4,90 euro si sta opponendo alla salita dei prezzi. Quindi se ce l'avessi in portafoglio adesso è proprio il momento di porre particolare attenzione perché un eventuale breakout in una chiusura confermata sopra 4,90 euro secondo me aprirebbe degli scenari assolutamente interessanti. Viceversa, qualora questa resistenza non venga superata consiglio in ogni caso di monitorare 4,50 euro che è un livello abbastanza lontano ma è il supporto chiave per il titolo. Quindi sostanzialmente fra 4,50 e 4,90 c'è lateralità il breakout di 4,90 innescherà un movimento positivo e viceversa lo scenario, tra virgolette, catastrofico ma ritengo improbabile di ritorno a 4,50 sotto 4,50 invece sarebbe negativo. Insomma in estrema sintesi adesso siamo proprio a rendere azione ma se supera 4,90 sarei fiducioso e terrei la posizione in portafoglio. Buongiorno, cosa ne pensate di Telecom? Ultimamente sta solo scendendo. Grazie per la domanda è un titolo che sta facendo soffrire veramente tanto proprio stamane ha toccato questa soglia fondamentale dei 0,60 centesimi che è un livello importante per diverse ragioni in primis perché i numeri tondi in analisi tecnica hanno una certa valenza e una capacità attrattiva in secondo luogo perché sono sostanzialmente i minimi che il titolo non vedeva addirittura dal settembre 2013 penso abbiamo fatto un salto indietro nel tempo di quasi 5 anni e in terzo luogo perché probabilmente da qui potrebbe nascere quantomeno un flebile rimbalzo quindi qui secondo me dipende molto dal prezzo al quale il nostro telespettatore ce l'ha in carico nel senso che sarebbe anche opportuno ricevere delle domande con i prezzi di carico così si può pensare a una strategia più congola guarda parlando ti interrompo un attimo perché parlando di strategia mi è arrivato un altro sms proprio su telecom e Antonio ci chiede le ho a 1,05 euro vorrei venderne metà sulla forza per poi acquistarne altrettanto sulla debolezza condividete questa strategia a quali livelli va operato intraday o in più giorni? 1,05 è un prestaggio sì vuol dire che praticamente le ha prese direi a marzo del 2016 adesso è odioso parlare col senno di poi e mi rendo conto che dire la frase io te l'avevo detto è pessima io non amo utilizzarla però per il futuro probabilmente è opportuno tenerlo un po' più sotto controllo alle posizioni perché sai con una perdita del quasi 50% la posizione diventa difficile da gestire anche piuttosto angosciante quindi prima premessa probabilmente non è il caso nel futuro di trovarsi in condizioni così estreme e difficili da gestire potrei concordare su un liquidare su rimbalzo ritengo che l'eventuale rimbalzo avrebbe come target 0,66 centesimi che sono i massimi toccati il 5 luglio quindi siamo in trend ribassista evidentemente è inutile dirlo e quindi probabilmente ogni rimbalzo potrebbe essere l'opportunità per liquidare 0,66 potrebbe essere un livello target dove quantomeno una parte della posizione per stare un po' più sereni potrebbe essere liquidata ma anche qui andrebbe fatto ragionamento più complessivo e la domanda dovrebbe essere che percentuale Telecom impatta sul portafoglio se siamo nel 5% del complessivo tutto sommato si può ottenere qualora Telecom abbia una predominanza sul portafoglio maggiore del 10% la situazione si complica un attimo e probabilmente l'imbalzo potrebbe essere l'opportunità per alleggerire Buongiorno, complimenti per la trasmissione grazie a Simone Dabelluno è in carico con Orizzonte Temporale anche 6 mesi Brembo a 12,20 e Intesa San Paolo a 2,48 che strategia? Sì, belle entrambe le domande perché se riesci a seguirmi con un grafico Brembo è su un livello molto interessante per fare un breve excursus Brembo è una storia che ha dato grandissime soddisfazioni a tutti i risparmiatori a partire dal 2009 fino all'anno scorso il problema è che proprio a maggio dell'anno scorso il titolo ha raggiunto i 15 Euro e da lì onestamente si è invertito il trend banalmente non ha più formato minimi e massimi crescenti ma ha formato massimi e minimi decrescenti e quindi c'è stata un'inversione del trend primario la buona notizia è però a mio avviso che negli ultimi sedute e negli ultimi 10 sedute sta mostrando un'inversione della forza relativa che cosa vuol dire in estrema semplicità che tende a far meglio dell'indice quando l'indice chiude col più e tende a far meno peggio dell'indice quando l'indice chiude con il meno e quindi questa è un'interessante indicazione detto ciò io farei una strategia estremamente banale ovvero prenderei i minimi toccati il 23 ottobre del 2017 e tirerei una banale trend line che congiunge i massimi decrescenti vedrai che intorno all'area che sta battendo intorno ai 17,40 circa c'è questo passaggio di trend line se i prezzi superano questa trend line ribassista potrebbe tornare la positività su Brembo viceversa fin quando i prezzi galleggiano sotto questa trend line ribassista direi che non è la fatta opportuna per entrare al rialzo quindi banalmente prenderei questo come livello interessante riguardo intesa è una storia un po' più complicata perché secondo me c'è una sorta di difformità fra i valori fondamentali e i valori tecnici io ritengo che intesa a livello di fondamentali sia assolutamente ben impostata il problema è che i prezzi non stanno riconoscendo questa buona qualità dei numeri e quindi dei bilanci perché dico questo? perché i prezzi sono sostanzialmente ingabbiati in questa brutta fase laterale che è sviluppata fra area 2,40 e 2,62 ormai da molte settimane dal 29 maggio nello specifico quindi qui utilizzerei questa strategia comprerei sulla parte bassa di questo rettangolo quindi 2,40 secondo me è una buona area di acquisto e viceversa alleggerei la posizione in area 2,60 cioè sfrutterei questo bordo questo rettangolo per costruire delle operazioni di breve respiro che comunque possano in qualche modo dare una certa soddisfazione quindi livelli chiave 2,40 supporto 2,60 resistenza e come detto possono essere sfruttate per rapidi operazioni di trading Mediaset e Ferragamo prese a 2,55 e 19,51 rispettivamente che target di breve? Sì Giulio partirei da Ferragamo che anche qui si è una storia un po' dedicata come sai c'è stata un'operazione straordinaria nella quale gli azionisti hanno liquidato a un prezzo non altissimo le parti delle loro azioni l'operazione è stata effeguita il 20 giugno e da lì il mercato ha reagito in primis con un meno 8,44 in seconda battuta con una lunga niscita che di fatto ha invertito il trend rialzista che il titolo aveva in qualche modo provato a costruire negli ultimi mesi quindi qui il quadro grafico è degenerato però abbiamo un punto di supporto interessante che è rappresentato a 19,30 quindi io qui al telespettatore consiglio in primis di tenere ben fisso il livello 19,30 se ahimè dovesse chiudere una settimana sotto 19,30 io onestamente chiuderei tutte le posizioni long perché temo lo sviluppo di una nuova gamba ribattista se viceversa 19,30 tiene e mi sembra uno scenario probabile ritengo che che possiamo assistere a uno di imbalzo che potrà avere come primo target 21,50 secondo target 23 e questi potrebbero essere i livelli intermedi sui quali potrebbe essere diciamo interessante liquidare parte della posizione però occhio perché 19,30 è veramente un supporto interessante per quanto riguarda invece Mediaset è una storia calda proprio ieri in virtù di tutto quello che sta succedendo sul mondo delle torri televisive il titolo si è scaldato ha registrato una bella una bella accelerazione che ha superato il livello di 2,80 qui io farei un distingo secondo me bisogna capire se uno lo vuole tenere in ottica di breve o piuttosto in un'ottica di medio-lungo periodo medio-lungo periodo bisogna fare delle considerazioni generali anche sull'evoluzione delle vicende politiche perché è evidente che le frequenze sono un'area di attività nella quale la politica può e deve intervenire allora bisogna capire secondo me anche quanto durerà il governo in carica che sembra per certi versi un po' ostile all'azionista di Mediaset o viceversa si andrà alle urne quindi secondo me molto dipende dalle vicende politiche quindi nel medio-lungo non me la sentirei di scommetterci perché facciamo sostanzialmente una scommessa su quelle che sono le vicende politiche nel breve invece se il prezzo consolida almeno tre sedute sopra 2,80 sarei fiducioso perché il segnale di ieri mi è piaciuto è stato un bel breakout con esplosione dei volumi e della volatilità quindi se tiene per tre sedute cioè se ne assurde oggi nelle successive due consolida sopra 2,80 sarei fiducioso e ritengo che il target a 3 euro sia assolutamente raggiungibile nel breve termine Buongiorno l'analista potrebbe fare un'analisi su Fineco e Mondo TV a che prezzo si può entrare partiamo con Fineco magari sì Fineco è il titolo che io preferisco in questo momento è un titolo che ha straordinaria forza relativa se guardi l'andamento degli indici finanziari dell'indice bancario italiano e Fineco vedrai che c'è un'assoluta distonia è un titolo che mi piace molto mostra grande forza relativa e non a caso è proprio in questo momento a contatto con i massimi assoluti unico titolo fra le blue chips bancarie a essere a contatto con i massimi assoluti quindi la buona notizia è che è assolutamente una storia di successo ben impostata mi piace molto la fra virgolette diciamo cattiva notizia è che è arrivato sulla resistenza chiave che è rappresentata dai precedenti massimi assoluti ovvero quelli toccati il 12 marzo a 10 euro e 43 centesimi è arrivata un po' tirata che cosa vuol dire tirata è arrivata col fiato corto nel senso che è arrivata dopo un movimento estremamente impulsivo tipicamente queste fatti così di run up vanno in qualche modo intervallate da fatti di consolidamento è come quando tu corri a per di fiato hai bisogno un attimo di prendere una pausa prima di una nuova accelerazione quindi Fineco sarebbe auspicabile che consolidarsi un po' sotto questa resistenza di 10 e 40 che è decisiva ma in ogni caso se la breccherà sarà un il superamento di questo livello sarà un eccellente segnale di continuazione di azista e quindi mi sento di consigliare assolutamente di mantenerlo in portafoglio anzi complimenti per questa intuizione perché è fra i titoli migliori quindi complimenti e occhio a 10 e 40 che potrebbe essere un ulteriore livello che potrebbe ricavare la mità degli interessi affidenti riguardo mondo tv invece no il titolo considera che negli ultimi tre mesi ha perso il circa il 21% il 20 e 58% eh sì a inizio anno eravamo oltre i 7 adesso siamo 4 e 23 anche se oggi sale del 7% quasi però sì la vedo la trend line negativa da inizio anno è sicuramente molto evidente sì il problema è che ieri viene da un più 15 ieri ha fatto più 15 e 14 oggi viene da oggi sta realizzando questo rialzo del 7% tra l'altro sulla mia console diciamo mi spuntavo continuamente l'alert perché sta scambiando dei volumi assolutamente inconsueti considera che nelle prime due ricontrattazioni ha scambiato quasi un milione e mezzo quando sostanzialmente la media dei volumi prima di questi due strappi negli ultimi 22 sedute era circa di 300 mila pezzi quindi nel giro di poche ore ha scambiato 5 volte tanto rispetto allo standard consueto quindi grande interesse intorno al titolo che probabilmente si presta più per operazioni di trading che per operazioni diciamo di medio-lungo termine non è facilissimo entrare adesso nel medio-lungo termine perché? perché devi sobbarcarti degli stop che sono impressionanti quindi io per mia filosofia quando ho la fortuna di come dire assistere a un rimbalzo nell'ordine del 20 oltre per cento del 22 per cento nel giro di due sedute io Giulio preferisco sempre accontentarmi e uscire almeno con parte della posizione poi magari dirai vabbè ma poi continuate a salire e va bene sono alla sfera di cristallo quindi io se dovessi dare un consiglio spazionato se ce l'avessi in portafoglio un titolo dopo un più 22 anche in virtù di quello che è successo nel passato per un brutale tell off che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi francamente almeno parte della posizione la liquiderei tanto voglio dire il titolo non chiude domani o dopo domani ci sarà sempre un'opportunità eventualmente per rientrare quindi mi sentirei con prudenza di consigliare almeno di liquidare parte della posizione su questo strato ci spostiamo su una telefonata siamo in collegamento col signor Rocco da Salerno buongiorno buongiorno complimenti per la sobrietà della trasmissione grazie di grande aiuto di grande aiuto la sua domanda sì allora tre titoli Todd si ingresso a 54 prospettive grafiche per il titolo poi Prismian a 21,5 sì e Banca Generali a 21,7 21,7 d'accordo grazie signor Rocco grazie ancora alla prossima grazie allora Pietro da che cosa vuoi partire Todd sì va benissimo anzitutto direi complimenti a Rocco perché ha fatto domande su tre settori diversi Todd è sostanzialmente lusso Prismian è industriale e Banca Generale e del risparmio gestito e questo mi della è stata anche per ricordare una cosa banale ma secondo me molto utile che è quella di avere un portafoglio diversificato esatto è una cosa banale ma spesso ho riscontrato con i miei occhi che viene molto viene talvolta dimenticata allora partiamo da Todd che è un titolo che onestamente non sta regalando grandissime gioie ai risparmiatori da diverso tempo è un titolo che si fa fatica a gestire perché è il classico titolo che ti dà come dire grande grande stress non tanto perché reagisce a dei ribassi particolarmente violenti ma perché è da molto tempo all'interno di una fase sostanzialmente non direzionale e ti assicuro che questi sono i titoli che fanno snervare di più nel senso che sei sempre nell'ambascia di dire che faccio lo tengo piuttosto che lo liquido e quindi occupano liquidità in portafoglio e non danno grandi soddisfazioni purtroppo a partire dai massimi toccati addirittura a 140 euro il titolo adesso non sono neanche così lontani perché valeva 140 euro diciamo agosto 2013 adesso siamo arrivati a livelli vicino ai 50 qui secondo me la strategia deve essere la seguente 52 euro è un livello di supporto fondamentale quindi se il prezzo rimane sopra 52 si può mantenere in portafoglio certo con un po' di fatica ma manterrei se viceversa va sotto il 52 chiuderei la posizione al contrario un'accelerazione verso area 58 potrebbe essere un primo livello di target su cui liquiderei un terzo della posizione e quindi questa potrebbe essere la strategia più sensata quindi 52 supporto decisivo e 58 resistenze interessanti sulla quale probabilmente liquiderei una parte della posizione se vuoi passiamo a prismi è anche una storia che necessiterebbe di un approfondimento importante perché il titolo è sotto aumento di capitale come sai i titoli diciamo sotto aumento di capitale presentano spesso degli andamenti del tutto peculiari nel senso che proprio questa operazione straordinaria chiamerà a un certo punto gli investitori a decidere se aderire o meno all'aumento onestamente è un aumento non stile bancario super dilutivo è un aumento che probabilmente potrebbe aver senso sottoscrivere perché però anche qui non si sbilancia il portafoglio oltre modo su questa su quest'asset quindi dipende un po' il titolo tutto sommato mi piace e l'aumento sottoscrive l'aumento ci potrebbe stare però secondo me dipende molto dalla situazione personale del proprio portafoglio nel senso che se l'incremento dell'asposizione dovuto al fatto che sia del rischio dell'aumento di capitale non sbilancia oltre modo il portafoglio e quindi non sovrappesa prismia ci può stare se viceversa lo sovrappesa ci farei una riflessione quindi tutto sommato è un titolo che terrei in portafoglio però considerando che proprio questa condizione l'aumento di capitale che ne può condizionare i prezzi e poi se vuoi aderire naturalmente devi essere pronto a investire ulteriori risorse per quanto riguarda invece infine banca generale è secondo me un titolo che sta risentendo al pari di Mediolanum e di titoli del risparmio gestito come Azimut di una situazione abbastanza peculiare del settore come sai Misi 2 in qualche modo ha delle A e sta avendo delle ripercussioni che sono secondo me non facilmente prevedibili cioè sostanzialmente un risparmiatore oggi trova dei dei prospetti più trasparenti o almeno dovrebbe trovare dei prospetti più trasparenti e bisogna capire se questi prospetti più trasparenti indurranno le persone che si servono del risparmio gestito a fare una riflessione su quella che è la reale efficienza e quindi sulla capacità che ha un gestore di dare quell'alfa di portafoglio ovvero quell'incremento alla performance del benchmark che uno si aspetta dall'investitore quindi settore delicato che sta soffrendo e nello specifico è molto interessante graficamente perché il titolo sta disegnando quello che in gergo si chiama cap and handle cioè sostanzialmente un pattern formato da una sorta di tazza con il manico nello specifico addirittura è come una tazza sembra una tazza con due manici qui operativamente la strategia è molto semplice il livello chiave da monitorare è 22 euro e 55 centesimi fin quando il prezzo rimane sotto 22 e 55 non avrei particolari indicazioni ma viceversa se questo pattern viene completato e quindi assisteremo a un breakout di area 22 e 55 interrerei assolutamente al rialzo il breakout naturalmente è una rottura con volume e volatilità e il primo target sarebbe la chiusura del gap lasciata aperta il 18 maggio che è in area 24 e 74 quindi un trade assolutamente interessante anche in termini di rischio rendimento perché il primo target è posizionato abbastanza avanti e quindi apre un'opportunità assolutamente interessante però qui bisogna avere la pazienza di aspettare il breakout di 22 e 55 non anticiperei assolutamente il segnale Pietro andiamo velocemente in pausa ma torniamo subito restate con noi ok ben ritrovati all'analisi tecnica programma dedicato a voi alle vostre domande noi vi accompagniamo come sempre fino a mezzogiorno circa nel mondo della finanza operativa vi ricordo che se volete interagire con noi potete chiamarci allo 0258 21 95 85 se invece preferite mandarci un sms o un whatsapp il numero è 349 82 75 983 noi siamo in collegamento con Pietro Di Lorenzo SOS Trader Pietro ci sei ancora? assolutamente di nuovo buongiorno bene dai ripartiamo con degli sms che sono come sempre tantissimi buongiorno meritati complimenti per la professionalità grazie molte vorrei per cortesia un'analisi su Interpump la segui Interpump Group? si la seguo non è un titolo diciamo che che proprio nel mio radar però adesso lo vado a recuperare al volo allora Giulio una premessa diciamo generale su questi titoli qui dove tipicamente non ci sono dei volumi straordinari considera che stamane ad esempio è anche una giornata abbastanza viva ha cambiato 40 mila pezzi e quindi diciamo le size da utilizzare devono essere secondo me congrue rispetto alla volatilità rispetto diciamo ai volumi e alla volatilità che cosa intendo dire che probabilmente è opportuno non esagerare con le quantità perché il rischio di rimanere imbischiato e facendo fatica a trovare qualcuno che vuole eventualmente acquistare le posizioni che vogliamo vendere è presente su questi titoli sottili diciamo in linea di principio è un titolo secondo me per investitori pazienti cioè per chi ha voglia di aspettare che i prezzi in qualche modo prendano una direzione chi l'ho acquistato negli anni precedenti adesso sicuramente sta gioendo perché è un titolo che ha mostrato un andamento negli ultimi anni assolutamente interessante il problema però è che negli ultimi mesi si è messo un po' in laterale come tutte le cose la vita era impensabile pensare che continuasse a salire così come ha fatto nel 2006 nel 2007 adesso sta un po' consolidando qui io utilizzerei questa strategia 25 euro è secondo me il livello chiave da monitorare se il titolo tiene 25 euro sarei assolutamente fiducioso e lo manterei con una logica come detto paziente quindi non per liquidarlo dopo giorni o settimane ma per tenere in portafoglio mesi se viceversa chiude sotto 25 probabilmente mi accontenterei anche qui sarebbe opportuno conoscere il prezzo di carico ma il Vini in principio se l'ha comprato non proprio negli ultimi settimane o mesi dovrebbe essere in buon guadagno quindi 25 euro secondo me è il trigger decisivo da monitorare se galleggia sopra 25 sarei sereno viceversa fare una revisione e chiudere le posizioni ci spostiamo su un'altra telefonata siamo in collegamento col signor Gino da Bologna buongiorno Ferrari Sì mi sente prego sì la sua domanda mi interessava in un'ottica di breve medio periodo Ferrari e Fiat Ferrari e Fiat grazie signor Gino alla prossima grazie ancora partiamo con Ferrari Ferrari è una bella storia italiana è una storia che oltre a dar gusto dal nostro paese ha fatto felice tanti azionisti il titolo sostanzialmente ha dato delle gioie straordinarie a coloro di quale hanno deciso diciamo di magari non potendosi mettere in garage la Ferrari diciamo vera e propria di comunque partecipare nel capitale di Visco ricordo che il titolo è quotato a Piazza Affari a partire dal primo giorno del 2016 il prezzo di collocamento fu intorno ai 45 dopo una fatta interlocutoria il mercato sostanzialmente lo prezzava come un titolo auto quindi dava diciamo lo prezzava come se fosse un titolo auto però tutti noi sappiamo che probabilmente Ferrari non è proprio un titolo che può essere prezzato a questi livelli perché è più un bene di russo più racquotato come un titolo del settore russo come un settore auto il mercato poi dopo un po' lo ha capito è partito questo rally straordinario che ha portato il titolo nel giro di poco dai minimi toccati intorno a 30 fino ai massimi toccati recentemente a 130 quindi pensa a un rialzo di 100 euro sul titolo nelle varie a 30 dice tutto su quanto sia stato apprezzato e secondo me è un titolo che va tenuto in portafoglio perché il trend di assiste è consolidato quindi qui la strategia semplicemente è di market time cioè che lo dobbiamo tenere in portafoglio è abbastanza pacifico la cosa interessante da fare è tenerlo a dei prezzi più bassi possibili perché tutti noi facciamo un po' fatica a comprarlo probabilmente adesso a 122 quando siamo così vicini ai massimi quindi qui bisogna utilizzare le tecniche di market timing per entrare a un punto di ingresso a basso rischio probabilmente l'aria più comoda potrebbe essere 115 e quindi mi sentirei per chi non ce l'ha in portafoglio probabilmente di aspettare 115 sempre che ci arrivi viceversa la formazione di nuovi massimi assoluti ricordo che il massimo assoluto è stato toccato il 15 giugno a 129 e 50 tipicamente potrebbe calamitare nuovi acquisti quindi per chi ce l'ha in portafoglio me lo terei stretto per chi non ce l'ha aspettare 115 e il breakout la formazione di nuovi massimi assoluti con sicuramente l'aria 130 potrebbe dare nuova linfa agli acquidenti e quindi innescare una nuova accelerazione in ogni caso un orgoglio italiano e complimenti a chi ci ha puntato dall'inizio perché sta facendo cose straordinarie riguardo Fiat invece la situazione è un po' diversa perché il titolo come sai ha fatto direi sognare e poco gli azionisti nel corso dell'anno scorso inutile spendere parole sul lavoro di Marchionne che sostanzialmente ha preso un'azienda messa malissimo diversi anni fa e l'ha rimessa con una grande capacità di negoziazione soprattutto negli Stati Uniti e quindi grandissimi complimenti a Marchionne che come sai però è in uscita da diciamo da ormai è chiaro che è stato quello presentato a inizio giugno era il suo ultimo piano industriale sì non si sa quando uscirà ma è prevista comunque inizio dell'anno prossimo probabilmente è prevista diciamo quindi il problema è che l'effetto Marchionne in qualche modo svanirà il piano industriale presentato a inizio giugno è stato secondo me assolutamente eccellente ma probabilmente il mercato si aspettava ancora di più e questa è stata la mia impressione come sai i prezzi di bozza lavorano sullo sconto di una notizia quindi è stato per me eccellente però è il mercatone che ha festeggiato in maniera così straordinaria quindi qui la strategia che mi sentirei di consigliare è tenerlo in portafoglio per chi ce l'ha ma monitorare 15,50 centesimi che è sostanzialmente il supporto che sta sostenendo i prezzi negli ultimi settimane quindi fin quando rimane sopra 15,50 sarei ottimista viceversa se buca 15,50 la situazione diciamo diventa un po' più delicata qui su Fiat farei un titolo che mi sento di consigliare a chi è in grado di monitorare il mercato non minuto per minuto ma con una certa frequenza perché le notizie i rumor spesso sono in grado di condizionare i prezzi recentemente ricordi c'era quella notizia di una eventuale OPA proveniente da Oriente secondo me abbastanza improbabile anche perché considerando che Trump e come sai Fiat è sostanzialmente un'azienda in parte americana tra l'altro non credo che sarebbe molto contento in linea di principio di queste azioni aggressive da parte degli asiatici quindi è un titolo che va monitorato il dubbio che ho è sul fatto che è un po' indietro francamente su tutte le nuove tecnologie quindi ibrido elettrico anche un po' per la missione di Marchionne non è proprio leader anzi direi che non lo è affatto leader di questa tecnologia che ormai sembra una tecnologia prossima quindi nel medio lungo termine non saprei se essere così istitucioso perché l'effetto Marchionne che svanisce il fatto che su queste nuove tecnologie non è così avanti mi lascia qualche dubbio però direi che in maniera neutra potremmo tenerlo in portafoglio fin quando diciamo resiste sopra 15,50 viceversa se va sotto probabilmente va fatta la revisione liquidata almeno parte della posizione abbiamo tempo ancora per una telefonata sembra un collegamento col signor Dario da Novara buongiorno buongiorno volevo qualche informazione intorno prego buongiorno volevo delle informazioni circa il titolo Fiera di Milano si e Reply la Fiera di Milano la incarica a 2,75 Reply a 40 qual è il secondo titolo mi scusi? Reply allora ok ci siamo perfetto grazie al signor Dario grazie ancora alla prossima grazie buongiorno allora partiamo con Fiera di Milano che cosa dire su Fiera di Milano complimenti al nostro telespettatore ti do due numeri per capire di cosa stiamo parlando il titolo nell'ultimo anno si è apprezzato del 176 per cento quindi questo lascia negli ultimi tre mesi del 105 e 69 per cento quindi una storia che non ha neanche bisogno di un commento solo di grandi complimenti al telespettatore io qui a costo diciamo di sembrare oltre modo prudente ti dico ciò che farei io quando sei di fronte a un rialzo così importante il 100% in tre mesi io onestamente mi pruderebbe un po' il dito sinistro per chiudere la posizione almeno in parte quindi se io ce l'avessi in portafoglio probabilmente almeno un terzo su questi livelli qua 4,70 li chiuderei fermo restando che è un titolo su cui graficamente si fa fatica a esprimere un pensiero perché ha un trend rialzista talmente inclinato cioè la trend line che sta guidando il movimento negli ultimi tre mesi è talmente inclinata da direi insostenibile nel tempo quindi senza colpo ferire un terzo della posizione la liquiderei e comunque avrei un bel sorriso sulle labbra se ho preso il titolo abbastanza recentemente quindi questo è quello che mi sento di dire su questi movimenti così importanti ritengo che sia necessario anche il buon senso di accontentarsi talvolta non è secondo me sbagliato riguardo invece il secondo titolo che però perdona i miei mani sfugge era Reply ok Reply adesso lo guardo perché non è proprio un titolo che seguo dei buy day qui diciamo la logica e anche qui di nuovo complimenti perché il titolo è in rialzo del 40% dell'ultimo anno e quindi è bene che vengano diciamo interrogati questi titoli rialzisti il trend è straordinario considera che il titolo valeva 5 euro nel 2012 e adesso ne vale quasi 60 qua la resistenza a 60 euro è molto evidente e rappresenta anche i massimi assoluti quindi lo terrei assolutamente in portafoglia addirittura probabilmente incrementerei la diciamo la posizione se breccasse i 60 euro che vede un movimento molto regolare fatto di consolidamente strappi che è molto interessante quindi terrei assolutamente e addirittura probabilmente incrementerei se supera 60 euro con forza quindi con volume e volatilità abbiamo tempo ancora per un ultimissimo titolo Pietro io ti chiedo perché in questi giorni sono moltissimi gli sms che arrivano chiedendo di Bion la stai seguendo perché in questi giorni hai fatto veramente dei movimenti molto particolari sì hai detto proprio il termine giusto è un titolo che nell'ultimo anno si è apprezzato adesso non vorrei sbagliarmi ma è sempre il 190% o giù di lì ma nell'ultima settimana ha perso l'oltre 20% allora questi due numeri che ho detto in qualche modo dovrebbero far riflettere sull'assoluta difficoltà di tradare un titolo con queste caratteristiche cioè un titolo sostanzialmente che regista delle esplosioni della volatilità repentine ricorda ad esempio la seduta del 13 luglio quando venne giù del 20% allora qui francamente è un titolo che consiglierei più per il trading che per l'investimento cioè queste fatti molto ariose questi movimenti di prezzi molto esplosivi secondo me sono più opportuni a un professionista che è in grado di sfruttare nell'intraday questa estrema volatilità entrare adesso mi sembra un po' un coin flip una scommessa e non ho mai visto nessuno arricchirsi in lungo termine in borsa facendo scommesse quindi mi sentirei di consigliarlo solo ai professionisti o quantomeno attendere una fatta di compressione della volatilità per trovare dei punti di ingresso senza entrare adesso ti può regalare una gioia importante o una perdita importante quindi è meglio secondo me utilizzarlo per trading stretto con stop loss rigidi in modo che se ti tovi nel secondo caso se la parte sbagliata non perdi tanto ma la chiudi molto rapidamente senza fare danni salvo in carico Banca IFIS a 3280 vorrei avere un'analisi e quando potrà ritornare su quei livelli grazie da Riccardo ma Banca IFIS è una storia diciamo che che insomma fa un po' a sé rispetto ai titoli diciamo bancari tradizionali perché mostra una leggera forza come dire un tentativo di tenuta però negli ultimi tre mesi ha perso il 20% quindi diciamo lo scenario non è nonostante diciamo sia una banca secondo me tutto sommato nei fondamentali che c'è è stato un po' coinvolta nel diciamo in questo sell off che ha caratterizzato un po' tutto l'andamento dei titoli bancari fermo di stanno diciamo che l'apprezzo nei fondamentali qui diciamo i livelli grafici secondo me decisivi da monitorare sono la resistenza a 29,15 euro superata la quale mi attendo una bella accelerazione quindi se si se si vuole vedere diciamo di nuovo un bel denaro vivo che può tirare sui prezzi rapidamente 29,15 è il livello chiave viceversa se il titolo dovesse tornare malocuratamente sotto i 21 euro che è un livello lontano e quindi uno scenario che ritengo poco probabile vorrà dire che questo movimento di bassista partito dai mattimi di ottobre non è finito questo ribasso e quindi potremmo assistere a una nuova gamba di bassista e quindi sarei costretto a chiudere le posizioni se torna sotto 21 che però non mi sembra uno scenario diciamo così probabile quindi concentriamoci sulla positività 20 area 29 euro potrebbe essere quindi 28,90 29 potrebbe essere un bel livello di resistenza superato il quale ci potrebbe essere una bella decisa accelerazione per il momento è un po' in mezzo al guado e attenderei questo breakout per prendere posizioni in maniera più decisa Pietro Di Lorenzo SOS Trader siamo in chiusura io ti ringrazio per essere stato con noi quest'oggi buona giornata e buon lavoro grazie anche a tutti i telespettatori noi andiamo in pausa ma torniamo subito grazie a tutti